Loro sono Colin e Samir, un duo di youtubers che seguo da ormai un anno e mezzo, e il mio obiettivo è quello di incontrarli entro 24 ore qui a Los Angeles, non chiedetemi come. Loro stessi hanno realizzato un video molto simile tre anni fa con Yes Theory, un canale che oggi conta 7 milioni di iscritti. E diciamo che qualche giorno fa ho provato a fare la stessa cosa, fallendo miseramente. Ok, probabilmente questa non è stata la mia migliore idea. Presentarsi sotto l'ufficio di qualcuno, senza alcun invito e senza alcuna idea su come catturare la loro attenzione. Mmm, non promette per nulla bene. Inoltre poco dopo ho scoperto che nessuno dei ragazzi era effettivamente in ufficio, visto che giusto appunto la sera prima erano partiti per il confine tra Polonia e Ucraina. Ma nonostante ciò non mi sono arreso e anzi sono passato al mio secondo target. E questa volta avevo elaborato un piano ben più dettagliato, che comprendesse qualsiasi evenienza. Quindi ho mosso il culo e sono andato a fare l'unica cosa che so fare bene, un video. Allora, è già passata un'ora e mezza dall'inizio della sfida e dovrei riuscire a ritare il video entro stanotte per inviarglielo e sperare di incontrarli la mattina. Ci proverò. Sono le mezzanotte e 55 e ho appena inviato la mail col video. Oltre a tre messaggi su Instagram e da questo momento in poi non posso fare altro che aspettare. Buonanotte. Dear Colin and Samir, these are my last 72 hours in LA and my only goal is to meet you. Your channel has helped me so much in the past year and I really want to give back to you guys. Either through a simple coffee or feedback or anything at all. I'm only asking for 10 minutes of your time and I swear to God I'm not a psycho. Tomorrow morning I'm gonna be in Venice so you know where to find me. And by the way, yes, this is the Netflix headquarters. I have no idea where I am. Lo ammetto, non ho sicuramente dato le motivazioni migliori che potessi dare, ma capitemi, quel video doveva necessariamente essere pronto entro le 9 del mattino, visto che il volo per l'Italia era il pomeriggio dopo. E soprattutto speravo nel fatto che l'impegno messo nella realizzazione di quel video potesse quasi compensare per tutto il resto. È la mattina del giorno dopo e ovviamente non ho ancora ricevuto una risposta. Il video su YouTube non ha alcuna visualizzazione, quindi non l'hanno decisamente visto. Nonostante ciò ho tanta speranza. Forse troppa. Infatti sto per prendere un bus per andare fino a Venice Beach, che è dove si trovano i loro uffici, solo perché sono convintissimo di riuscire ad incontrarli. Ah, quasi dimenticavo. In tutto ciò io non ho alcun tipo di sim, alcun tipo di internet, quindi nel momento in cui uscirò da questo hotel mi dovrò basare interamente su ciò che trovo. Fortunatamente ho scaricato la mappa di LA, quindi so dove sta andando. E devo dire che c'è un motivo per il quale sono così speranzoso che questa cosa possa succedere. Ovvero che quando con i Nensameer fecero lo stesso video tre anni fa con gli Astiory, avevano praticamente i miei stessi numeri. Quindi in un modo o nell'altro sanno come ci si sente ad essere in questa posizione. Nonostante ciò ho l'ansia mille e spero di non star buttando una giornata. Ok, grazie al wifi di questo bar ho appena twittato il video che ho realizzato ieri. Spero che Twitter possa aiutare. Quello era il bus che avrei dovuto prendere. Bene. Il prossimo bus dovrebbe passare fra tre minuti. Speriamo di non perdere anche questo. Il bus? Sicuramente non so come prenderlo. Si fermerà? No, vabbè. Ha appena tirato dritto? Ho appena perso il secondo bus. Vabbè, ho chiamato un lift. Sì, è questa Cristina? Sì. Ciao. Ciao. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, come sei? Buongiorno. Ho provato di prendere il bus due volte per arrivare a Santa Monica in Venice, ma l'ho perduto due volte. Buongiorno. Sono le 4 del pomeriggio. Come avrete capito, ancora nessun segno di Colin & Samir. Sto facendo avanti e indietro da Santa Monica a Venice e da Venice a Santa Monica da ormai un bel po' di ore. Non ce la faccio più. Penso di fare queste stories nonostante in Italia sia notte e magari pubblicarle dopo. E poi tornare perché in questo momento non ha senso restare qui. Ciao. No problem. So che è nottefonda in Italia, ma ho urgentemente bisogno del vostro aiuto. Vi chiedo di inviare in massa la prossima story che vedrete a questo account. Contosi di voi. Salutate da Hollywood. Ciao. 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 Siamo appena atterrati in Italia e 16 ore fa è arrivata finalmente la risposta di Colin & Samir. Vabbè, carini, almeno quello. Lorenzo. Ciao. Grazie per il tuo video e grazie per arrivare a noi. Infatti siamo in Austin, non siamo in L.A., non siamo in Venese, quindi non potremo riuscire a 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 riuscire. Mi sono chiesto per settimane se avesse senso o meno fare questo video, visto che non sono riuscito a fare l'unica cosa che mi ero imposto di fare. Ma sai cosa? Questa è comunque una grandissima botta di ispirazione. Se io, un diciannovenne qualunque, posso raggiungere due strane che ammiro dall'altra parte del mondo senza alcun contatto o vantaggio di alcun tipo, vuol dire che tutto è possibile. Sì, questo video ha ovviamente bisogno di una seconda parte, ma se possiamo ricavarne qualcosa è che la scelta spetta sempre a noi. Possiamo rimanere comodi e tranquilli nella nostra piccola bolla di conoscenze, oppure possiamo rompere le balle a tutte quelle persone che ammiriamo e che vogliamo assolutamente conoscere. Chissà, magari potreste uscirne con un mentone, o magari con un semplice amico. Questo è quanto.